Buongiorno Semplicemente David Lynch It's April 6th 2022 And it's a Wednesday It's a Wednesday Once again And eating naples A middle morning A more cloudy morning And raised here right now 1660 and 4 or 5 And 3 or 17 This means that today Really 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 soft Like in this period Per quanto riguarda il video sui pensieri Al solito a qualcuno interessato Lo faccio separato da questo Quindi occhio Anyway As you and you all Just see from the window Si Diciamo Temperature Ma comunque adesso è già pomeriggio Credo ci manterremo Su questo livello qui But The important thing With this atmosphere Is that Yes, voi vedete un sole Diciamo leggero Ma In realtà è molto coperto dietro Non so se si vede bene l'inquadratura E quindi Per me For me We aren't going to be enjoying In those beautiful blue skies In golden sunshine Infatti appunto Vai e viene Che io più appunto In realtà Verrà coperto ancora di più dalle nuvole Ovviamente mi auguro che ci sarà Ci saranno Those beautiful blue skies In golden sunshine Ma la video è impossibile Che dire come dico La mia frase di caldo ovviamente Le cose posso sempre cambiare Un momento all'altro Batta solo e sui si Ma comunque la video è un po' impossibile Le vedremo Per cui Non dico le frasi con enfasi Per cui Finali Le frasi finali con enfasi Per cui Said this So from the mythical wind With the colored curtain Certo Non sublime Ma nemmeno bruttissima Comunque Bella diciamo Grazie sempre all'inquadratura Questa luce I stessi colori della tenda And it's Green roller shooter Behind me on the top Not visible In factor in the shot Finali For my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva Great day In all the people Follow the channel reports Un saluto davvero a tutti Vi ripeto C'è il sole Ma molto nuvoloso Lo so appunto Ma purtroppo è nuvoloso Qui non dico le frasi con enfasi Altrimenti le frasi con enfasi Vi avrete detto Batturso Have A great Breakfast Everywhere Ma io la farò tra poco Il mio stomaco bruntola Non so il vostro Spero anche il vostro Si ci vediamo al videotuts Quindi nel caso Lo faccio domani